Ciao a tutti, oggi cucineremo insieme i cannelloni alla JFK. Questo piatto viene cucinato nel film The Terminal, dove il protagonista, Victor Navorsky, originario del piccolo stato immaginario Dreyfrakosia, rimane intrappolato all'interno dell'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York. Tra situazioni divertenti e buffe, Victor cercherà di conquistare l'amore per una giovane hostess, Amelia Warren, cucinandole il suo piatto preferito, i cannelloni che ora cucineremo insieme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.